Diretta Lampo Buongiorno, buonasera Allora, questa sera volevo fare la diretta per cena invece che a merenda Quindi sono venuta a casa con tutti gli ingredienti E mi sono accorta che ho le chiavi nello zaino della bambina Che vista la diretta dell'altra sera con il Nazgul ho lasciato dai miei genitori per evitare che facesse un casino boia Quindi mentre aspetto che mio papà mi porti le chiavi perché è un bravo uomo Ho deciso di fare al volo la diretta e di raccontarvi la ricetta che farò Così almeno risparmiamo i tempi Allora, la ricetta di stasera è una ribollita ricciardina Perché ribollita ricciardina? A fin dei conti la ribollita è una zuppa di fagioli, cioè è una roba molto povera e sicuramente abbastanza dietetica, no? Perché devi fare la ricciardina? Proprio perché essendo una zuppa povera non tiene conto delle proporzioni tra i nutrienti, no? Tiene conto della tradizione del gusto E noi invece la vogliamo fare in modo che sia un piatto adeguato Quindi, più o meno gli ingredienti sono carota, sedano, cipolla, da fare il solito nostro soffrittino Cavolo nero, un mazzetto almeno, ma potete metterne due se ne avete comprati due Come me questa mattina dai, come si chiamano? Oggi è sabato, ci sono i contadini qua in Piazza del Popolo Quindi, adesso lo faccio vedere Guardate che bel mazzetto Non portate mazzi di fiori, ma mazzi di cavolo nero, che sono buonissimi Quindi, a questo punto, avete le vostre foglie di cavolo nero Ci vanno patate e fagioli cannellini In che quantità? Allora, le patate io ne metterei pochine Perché per completare il piatto dal punto di vista dei carboidrati Io ci metterei un bel crostino E contate che i fagioli hanno già un bel po' di carboidrati Quindi, mettete un quantitativo di carboidrati Scusate, di fagioli Che sia adeguato secondo il vostro piano alimentare Se non avete un piano alimentare Mettetene Io direi, almeno, dipende Se li fate secchi, almeno 50-60 grammi a testa Se li fate Già precotti Fate anche 200 grammi A testa La mia idea era Far cuocere tutto assieme E poi ci va Comunque Del timo Del rosmarino E qualcos'altro Che è scritto nell'appunti che ho preso E sicuramente ci va Del pepe E dell'olio extravergine d'oliva Quindi, per bilanciare correttamente il pasto In teoria è un piatto unico Perché c'è un buon quantitativo di fagioli Però c'è anche un bel quantitativo di carboidrati Perché ci sono i fagioli I crostini di pane E qualche patata Quindi, se volete Un piccolo secondo ci può anche stare Se siete ancora affamati La verdura C'è già il cavolo nero Se volete potete non farne in più Però, obiettivamente Se volete sgranocchiare Se è una serata in cui avete particolarmente fame Ci può stare che la aggiungiate Anzi, io l'aggiungerò di sicuro Sempre che riesco ad entrare in casa Quindi, ricapitolando Poi vi manderò anche la foto Perché vado a casa e la faccio A giuro Non è che era una diretta finta Nei commenti Come nella diretta del Nazgul Pubblicherò la ricetta precisa Perché, appunto La faccio a sentimento Lo sapete Ricciardina Perché, appunto Dobbiamo bilanciare un pochino La ricetta Che se no sarebbe un po' ricca di carboidrati Un po' scarica dal punto di vista proteico Ma d'altronde è una zuppa È un primo piatto, no? Ma noi ne facciamo un piatto unico Perché A è molto buono Ci sta B Vogliamo fare presto Vogliamo fare meno cose possibili La mia idea era di Come vi ho già detto Sto cominciando a fare le cene Anche se non ho ancora finito le merende Perché adesso è inverno Ancora per poco è per finita Però possiamo farci delle zuppe calde Delle vellutate Che poi durante la primavera Gli ingredienti cambiano Quindi volevo sfruttare Un po' di ingredienti invernali Per fare già qualche cena Quindi vi posterò poi Nei commenti La ricetta completa E Come l'ho fatta io E le foto E poi Se vi è piaciuta La diretta del Nazgul Cioè quella con mia figlia Me lo scrivete nei commenti Perché non si sente niente Non si capisce nulla Ma vi ammazzate dal ridere Se invece preferite le dirette Così con le ricette Fatemelo sapere Quindi se vi è piaciuta la diretta Condividetela Anche se ancora è Da definire E per il resto Vi ringrazio di esserci stati Anche qua con me Nel parcheggio dell'auto E ci vediamo Alla prossima